il modellino del nuovo treno della metropolitana quando è che i cittadini li vedranno sui binari ovviamente l'ho accolto con favore perché mi è stato dato in quanto testimonianza che li stanno veramente realizzando altrimenti così come modavano modellino così glielo restituivo perché il modellino mi interessa se non per non vedere l'ora di poter entrare in uno di quei treni che si stanno producendo a San Sebastian, Paesi Baschi, Spagna l'obiettivo è di far arrivare il primo treno a gennaio comunque diciamo che l'obiettivo è fra un anno avere quel numero di treni che ci consentiranno finalmente di avere non solo le metropolitane più belle del mondo ma anche tra le più efficienti con treni moderni i tre sono molto belli perché sono lunghi, confortevoli, wifi, aria condizionata porteranno a 4-5 minuti quando saranno tutti 4 all'inizio staremo sui 5-6 minuti i primi treni dovremmo arrivare a circa 20 treni però questo nel corso di tutto l'anno cioè la prima consegna a gennaio, le ultime a dicembre quindi noi già fra un anno potremmo dire di avere anche da questo punto di vista una mobilità rinforzata ed è il motivo per cui noi abbiamo fatto questi sforzi enormi per salvare ANM di com'è fondamentale una ANM che rimanga in mani pubbliche, che venga efficientata che sia sostenuta dalle altre istituzioni e che non ci sia qualcuno invece che tenti in modo anche molto subito di farla fallire ecco perché è importante far vedere quanta fatica ci sta dietro a quello quando sono diventato sindaco siamo scordati di mettere, di ipotizzare l'acquisto dei nuovi treni abbiamo dovuto anche lì fare un lavoro molto faticoso però adesso siamo davvero molto soddisfatti e ci auguriamo quanto prima di poter inaugurare il primo treno nella nostra linea 1 di Napoli